bene benissimo giornata oggi è un po' questo vento ciale ma tu che non mi fa Sanmi? ma non mi fa però io ci ho pensato a una soluzione poco diversa cioè perché tu fai paura quando fai... ci ho pensato a una soluzione un po' downbeat downbeat? si praticamente a noi a un certo punto ci inseriamo un loop downbeat faccio dire che non siamo due dj, dj dicono che vanno a suonare e poi mettono i dischi degli altri noi suoniamo veramente, mettono downbeat e danno i dj no tu fidati di mi sentiamolo e poi decidiamo no? scusa e come lo fai su con me? eh non ti preoccupi, non begli non begli non begli ma fidati rimane mettono fu dj cambio lavoro eh 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 allora Fallori come avevo fatto questa cosa? mi hai già pensato a questa soluzione? sinceramente io già l'avevo fatta in precedenza adesso te la propongo però comunque... quindi il tuo è un disegno premeditato? premeditato sì 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 perché già ci avevo pensato già da prima poi io mi registraziono quindi me la prendevo tutte cose comunque adesso ti faccio tutto ma sei un po' ove? perché? tu devi sentirlo nell'assimo capito? non devi pensare solo la batteria dj cioè vabbè lo faremo nell'assimo guarda che viene bene vabbè ne ho provato non è un po' ove? non è un po' ove? non è un po' ove? ma sei un po' ove? non è un po' ove? per non ao non è un po' ove? ma sei un po' ove? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.